Vedi? Non sono né una regina, né un mostro. Sono la dea della morte. Tu invece eri il dio di cose? Anche se avessi due occhi, vedresti il quadro a metà. E' troppo forte. Senza il mio martello non riesco. Tu sei Thor, il dio dei martelli? Il martello ti aiutava a controllare il tuo potere, a concentrarlo. Non era la fonte della tua forza. E' troppo tardi, lei ha già preso Asgard. Asgard non è un luogo, non lo è mai stato. Potrebbe essere qui. Asgard è dove si trova il nostro popolo. E ora, proprio ora, ha bisogno del tuo aiuto. Non sono forte come te. No. Sei più forte. Dimmi, fratello, tu invece eri il dio di cosa? Perfetto. E? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sei in ritardo? Sei senza un occhio? Non è finita.